Questa manifestazione è nata vent'anni fa, molto insordina, con una sottolineatura floreale da parte del Garda e di persone volontarie che volevano addobbare, abbellire gli altri importanti della nostra città con dei fiori. E questo fu un disegno che partì grazie a Maria Angela Gropallo che forse intravise questa manifestazione a Bruxelles in maniera ovviamente più organizzata e più grandiosa. La portò a Sarzana con molto entusiasmo. Io partecipai già dalle prime edizioni, piano piano, lei continuò con me a fianco insieme agli altri a fare questa manifestazione fino ad arrivare ad edizioni più importanti, fino a che siamo riusciti a dare agli altri delle interpretazioni storiche o interpretazioni artistiche, interpretazioni musicali, da far sì che i visitatori trovassero negli altri non solo la bellezza, che quella è la fondamentalità della manifestazione, ma anche delle curiosità e delle varietà di fiori legati alle interpretazioni che fossero divertenti e che fossero originali. Forse quest'anno abbiamo fatto una sfida con noi, abbiamo voluto fare una manifestazione tra virgolette più dotta. Il tema di quest'anno, gli altri fioriti, è dedicato alla visita dei palazzi nobiliari, dei palazzi antichi del centro storico di Sarzana e ha un richiamo con l'anniversario della nascita del Papa Niccolò Parentuccelli, Niccolò V Sarzanese. Avrà anche una parte storica, quindi una documentazione storica molto interessante dal punto di vista di chi non conosce questi aspetti e darà una possibilità di poter visitare gli altri di alcuni palazzi che fanno parte della storia artistico-culturale di Sarzana che normalmente non sono visibili al pubblico. Avremo tutti i negozi aperti, avremo una serie di proposte che si legano all'iniziativa, quindi offrirà anche non solo una bella passeggiata nel centro storico di Sarzana con questi altri meravigliosi, ma offrirà anche un'opportunità di divertimento e di intrattenimento per i visitatori. Sabato 29 aprile, alle 10.30, avremo un convegno e avremo una serie di interventi qualificati. La Contessa Teresa d'Alberti Scotti è la Presidente nazionale dell'Associazione Italiana di More Storiche, Egidio Banti, giornalista, scrittore, uomo di grande cultura. Don Paolo Cabano è il Direttore dell'Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Curia Vescovilla e della Spezia, Igo Salvatori, fotografo, e abbiamo Marinella Curre che è il Capo Delegazione del FAI, Fondo Ambiente Italiano della Spezia, e Vilma Petricone è la Preside dell'Istituto Parentuccelli Arzana delle Scuole Medie e Superiore di Sarzana e poi ci sarà una visita guidata agli altri fioriti. Grazie a tutti.